Un'insalata semplice ma molto gustosa Benvenuti in Cucina per Te! Talvolta anche una semplice insalata può dare molta soddisfazione al palato Oggi prepariamo una gustosa insalata di finocchi rustica Se la ricetta vi piace mettete like e ricordate di attivare la campanella per ricevere notifica delle nuove ricette Vediamo quali sono gli ingredienti, prepariamola insieme Per quattro persone occorrono Due finocchi tondi 40 g di olive nere 40 g di pomodori secchi 50 g di lattughino Olio extravergine d'oliva E sale Iniziamo la preparazione ponendo i pomodori secchi in ammollo in acqua fredda per un paio d'ore Poi li sciacquiamo con acqua corrente e li tagliamo a pezzetti Intanto dopo aver lavato ed asciugato il finucchio eliminiamo i gambi e la base Eliminiamo anche le due foglie esterne che generalmente sono più dure e meno saporite Quindi lo tagliamo a fetta e non troppo spesse Trasferiamo tutto in un contenitore capiente e sciacquiamo bene il finocchio con acqua corrente per rimuovere ogni impurità Poniamo il lattughino in una ciotola Aggiungiamo i finocchi ben sgocciolati I pomodori secchi E le olive nere denocciolate Condiamo con un filo d'olio extravergine d'oliva E un pizzico di sale Mescoliamo per amalgamare bene tutto L'insalata di finocchi è pronta Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta Mi raccomando continuate a seguirci sul nostro sito web Ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube Un saluto e alla prossima videoricetta